Si intitola Eva, la costola di Dio, il primo libro pubblicato da Angelica Saltarelli. Lo presenterò ufficialmente lunedì prossimo alle ore 18 al Palabanchi 20 in dialogo con il giornalista Paolo Baldini ed è il frutto di un lungo percorso parallelo alla sua vita professionale nel campo della giurisprudenza. Contiene varie storie, nel senso la storia di un viaggio sia interiore sia comunque fisico-esteriore proprio dall'America alla Cina, sia una storia d'amore sia comunque una storia d'avventura ecco e in realtà è un po' tutta una metafora perché contiene comunque tanti richiami anche letterari, filosofici, mitologici è un po' tutto un viaggio alla scoperta di sé. La dedica è speciale a tutte le donne, soprattutto a quelle che devono imparare ad amarsi di più. Lo scriverlo mi sono scoperta molto più femminista di quanto credessi perché il libro appunto è dedicato a tutte le donne soprattutto a quelle che devono imparare ad amarsi di più perché appunto in questo viaggio alla scoperta di sé poi la protagonista capirà tante cose su di sé fino a poi arrivare a dover dare una risposta sul finale che ovviamente adesso non sto a dire che domanda è però appunto dovrà dare una risposta quindi sì assolutamente è un libro dedicato a tutte le donne ma soprattutto a quelle che devono ancora capire le proprie potenzialità grazie grazie grazie